Vediamo come si crea un logo 3D a partire da un PNG 2D. Cominciamo col creare una nuova composizione. All'interno di questa composizione andiamo a mettere il logo PNG piatto che vogliamo utilizzare e lo portiamo all'interno della composizione. Ho già attivato due viste che ci servirà più tardi, la camera attiva che dobbiamo guardare in questo momento è questa. Cominciamo col creare un livello tinta unita e andiamo ad applicare scala sfumatura. Facciamo spettro radiale, lo facciamo in questo modo. Ok, e lo portiamo sotto. A questo punto noi creiamo una precomposizione con il livello del nostro logo e lo facciamo due volte. Ora andiamo ad aprirlo, ed eccolo qua. E all'interno di questa precomposizione lo rendiamo un oggetto 3D. Qui vediamo... No, ero sulla camera sbagliata. Questa è videocamera attiva. Invece questa, selezionato questo riquadro, gli dico vista personalizzata, così lo vedo in 3D. A questo punto, se io clicco posizione, ho anche l'asse Z. Io posso creare il tasto destro e le dimensioni separate, così posso gestirle separatamente. Ora sulla posizione Z, che è la profondità, tengo premuto Alt e clicco. E qui vado a inserire Index. Alt più clicco sullo stopwatch, serve a inserire le espressioni. Adesso quello che vado a fare, vado a selezionare livelli e lo applico al mio logo. Quello che voglio fare è renderlo di un colore diverso rispetto a quello che è adesso più chiaro o più scuro. In questo caso facciamo più scuro, visto che poi lo applicheremo su uno sfondo bianco. Adesso quello che succede è che io lo duplico, diciamo 5 volte, poi seleziono tutto e duplico ancora. E sono 10. E adesso facciamo 1, 2, 3 e 4. E vedete che abbiamo aggiunto profondità al nostro logo. Grazie alla proprietà Index inserita nell'espressione. Ora andiamo sul primo livello e togliamo i livelli che avevamo messo e facciamo la stessa cosa sull'ultimo. Andiamo sull'ultimo e togliamo. A questo punto se torniamo nella nostra composizione vediamo che il logo è stato renderizzato esattamente come volevamo. A questo punto dobbiamo attivare il 3D anche qui e attivare anche questo. In maniera tale che venga renderizzato in maniera corretta. A questo punto se andiamo a prenderlo vediamo che è un logo 3D completo. A questo punto noi possiamo animare questa proprietà. Per cui stopwatch all'inizio e mi posiziono a 2 secondi e gli potrei dire per esempio un giro completo. Ora non faccio play perché questa animazione renderizza molto lentamente e quindi la vedremo molto male. Però possiamo vedere che il logo è stato renderizzato in maniera perfetta e nel momento in cui io lo andassi a esportare verrebbe esportato perfettamente in qualità con la rotazione e l'animazione che io gli ho dato.